Reddito di cittadinanza, la misura controversa che ha diviso Paolo Pignoni, lei cosa pensa? È stato giusto abolirlo? Il reddito di cittadinanza è una misura che se fosse stata strutturata meglio e ovviamente l'Inps avesse fatto i controlli prima di concederlo, sarebbe stata una misura efficace. Quando poi in televisione si assiste che persone dalla Romania, dall'est europeo, prendevano il reddito di cittadinanza per mesi causando dei danni allo Stato di diversi centinaia di milioni, assolutamente no, meglio che l'hanno tolto e che venga fatto nelle giuste maniere. E io sono contenta che l'abbiano abolito perché andava gestito in maniera diversa. Secondo me era fatto male, cioè è stato gestito in modo, dall'inizio... Poi si mangia, si mangia e poi quando c'è bisogno di mangiare non ci sono più fondi per cui poi si taglia. Forse andavano fatti dei controlli più mirati all'inizio del reddito in modo che adesso potessero usufruirne ancora chi ne ha effettivamente bisogno. Tutto si può rivedere, sicuramente ci sono degli elementi, a parte che queste truffe poi si va a vedere sono percentualmente una piccola parte, per cui tutto si può migliorare, però migliorare non vuol dire abrogare, eliminare, vuol dire un'altra cosa. Però bisogna valutare caso per caso perché purtroppo ci sono persone che necessitano di questo sostentamento, però altri ne hanno approfittato, forse la maggioranza. Quindi alla fine proporrei più per l'abrogazione. Perché gente che viaggia con macchinoni e prende il reddito di cittadinanza direi anche no. Chi ha bisogno va aiutato senza mezzi termini, però chi può andare a lavorare andiamo a lavorare e chi ha il BMW può fare a meno del reddito di cittadinanza. Sì, è giusto abolirlo per me. Non sono in grado di giudicare e semplificare in questo modo, so solo che ci sono delle realtà di grande povertà, di gente che è nata nelle nostre regioni, nei nostri paesi e ha assoluto bisogno di un aiuto economico. E' anche vero che qualcuno si è seduto aspettando che arrivasse la mana dal cielo e questo non fa bene. E io ho imparato a casa mia a rimboccati le maniche, anzi hai ricevuto un amo, pesca e datti da fare.